Ciao a tutti e ben ritrovati, eccoci di nuovo insieme. Oggi parliamo dello stile di Virginia Oldoini, la Contessa di Castiglione. La Contessa di Castiglione è stata la donna più bella ed ammirata dell'Ottocento e il suo stile veniva imitato da tutte le donne dell'epoca. Finta piccola amava dei look molto audaci, i suoi colori preferiti viravano tutti sul viola, dal violetto al color malva. Anche la sua cameretta era tappezzata di lilla e si dice che proprio lì incontrò il futuro marito Francesco Verasis, Conte di Castiglione. Il giorno delle sue nozze a Firenze, come scrive lei nel suo diario, vestiva un abito bianco in pizzo di Venezia e tutte le donne la acclamarono fuori dalla chiesa. Sempre grazie ai suoi diari sappiamo che quando andò a conoscere la regina Maria Delaide e il re Vittorio Emanuele II di Savoia aveva un abito rosso e argento. Quando le nacque il figlio Giorgio fu un'insolita scelta quella della culla rosa. Era un bambino molto bello, proprio come la mamma, e quando veniva rappresentato nei dipinti o nelle foto proprio insieme alla madre Virginia veniva un po' acconciato in modo femminile. Ma arriviamo all'appuntamento che cambiò la vita della contessa, l'appuntamento con Napoleone III a casa della principessa Matilde. Per quella serata aveva un'acconciatura alla oiseau royale, come la descrive il conte di Reset, cioè tante piume d'oro acconciate nei capelli. Mentre per il secondo appuntamento, avvenuto in una scalinata di un palazzo quando lui usciva dalla festa e lei arrivava in ritardo, aveva un abito in velluto bianco e oro. La contessa di Castiglione, in fatto di moda e stile, era molto esigente con i vestiti perché aveva capito che erano fondamentali per la vita che stava conducendo. Si affidava ai cuturier più importanti dell'epoca, Paquin, Doucet e soprattutto Charles Frederick Ward. Era la più ammirata alla corte francese e questo provocò delle forti gelosie da parte dell'imperatrice Eugenia. Nonostante questo, riuscì ad avere l'invito alla residenza imperiale di Compiegne. Una settimana di balli e feste, dove le dame portavano fino a quattro abiti diversi al giorno. In più occasioni la contessa di Castiglione sfidò l'imperatrice Eugenia. Ad esempio, quando l'imperatrice Eugenia aspettava suo figlio, chiese a tutte le dame di corte di vestirsi in modo ampio proprio per non farla sfigurare e la contessa di Castiglione si presentò in abiti succinti e anche un po' trasparenti per far vedere le sue invidiabili forme. Ma non è finita qua perché si fece bionda proprio come l'imperatrice e le rubò anche il parrucchiere personale, l'Hérois. Con un escamotage si fece pettinare proprio come l'imperatrice e arrivò al pranzo acconciata come lei. L'imperatrice si arrabbiò tantissimo e licenziò il povero parrucchiere Leroy. Il 1800 fu un secolo molto importante per la storia del costume. Infatti, durante quell'epoca, l'imperatrice Eugenia riportò in auge un po' gli abiti del Settecento, grazie alla sua forte passione per la figura di Maria Antonietta. La protagonista dell'epoca fu la crinolina. Le gonne dell'epoca venivano montate su una serie di cerchi di acciaio che chiudevano la parte inferiore del corpo. La crinolina creava una sorta di campana ricoperta di tessuti preziosi e di orpelli. Per i gusti dell'epoca era la parte superiore del corpo, quella importante e bella, che veniva esaltata con delle forti scollature nel décolleté. Dopo un po' di anni la moda cambiò, gli abiti si accorciarono, le gonne si ammorbidirono e si potevano persino vedere le scarpe. La cage, questa ampia gabbia in cui venivano costruite sopra le gonne, passò finalmente di moda e Charles Frederick Worth ebbe ragione. Il sarto divenne una vera celebrità, tutte le dame ambivano ad avere i suoi abiti. Ma torniamo alla contessa, che amava molto aggiungere dei fiori freschi in tinta ai suoi outfit. Adorava indossare i gioielli, in particolar modo le perle. Tra i gioielli della contessa voglio ricordare lo smeraldo con inciso il suo ritratto e per quanto riguarda le perle voglio ricordare l'anello con la perla nera che le regalò Amedeo di Savoia e la collana con cinque fili di perle, bianche e nere che le regalò Napoleone III. La contessa di Castiglione fu la promotrice della biancheria intima un po' come la intendiamo oggi. Indumenti leggeri in seta possibilmente nera che facilitavano i movimenti e rendevano meno goffe e soprattutto molto più sexy. Rilanciò la moda delle giarrettiere proprio per tenere le calze lunghe e le abbelliva con ricami in oro e argento e con scritte personalizzate. A proposito di biancheria non posso non citarvi la camicia da notte color verde acqua in seta, pezzo cult della contessa. Era il simbolo dell'obiettivo più alto che aveva raggiunto nella sua vita amorosa, infatti la indossò la prima notte con Napoleone III. La custodiva come un cimelio e avrebbe voluto essere sepolta proprio con questa camicia da notte, anche se questo non avvenne. Lanciò anche la moda delle lenzuola di seta colorate, nelle sfumature del blu, del nero, del verde e dell'immancabile violetto. Per quanto riguarda i colori, all'epoca si seguivano tutti gli accadimenti e le vicende politiche e i colori più usati prendevano il nome dei personaggi più in voga o degli accadimenti molto importanti. Il malva Castiglione come la contessa di Castiglione, il blu Eugenie come l'imperatrice, il sabbia senape marroncino Bismarck e il rosso magenta. La contessa di Castiglione era anche molto famosa per i suoi costumi e i suoi travestimenti, per i balli in maschera e per i quadri viventi, molto in auge in quel periodo. Vi cito solo due costumi tra quelli più famosi, la regina d'Etruria e la dama o regina di cuori. In un'occasione la contessa di Castiglione stupì tutti per un tableau vivant, quindi una riproduzione di un quadro con personaggi viventi. Mentre tutti si aspettavano una miss audace da parte della contessa, lei arrivò vestita da suora di clausura. Alla morte della contessa vennero rinvenuti tantissimi bauli pieni di oggetti appartenuti a lei e quattro appartamenti con armadi pieni di suoi abiti. Tutte le cose appartenute alla contessa sono andate all'asta e adesso si trovano o nei musei o nelle collezioni private. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta, ma non prima di avervi ricordato di dare un'occhiata al blog www.thequig.com e a lasciarvi con una frase cult della contessa di Castiglione.